cari amici vi do il mio più cordiale saluto siamo giunti alla dodicesima puntata delle nostre trasmissioni sulla esortazione apostolica di papa francesco amoris letizia che si occupa come ormai sapete del tema del matrimonio e della famiglia dodicesima puntata significa che abbiamo fatto un percorso già abbastanza lungo e che ci ha portato a esaminare quasi tutto il documento di papa francesco stiamo esaminando adesso il settimo capitolo quello che riguarda l'educazione dei figli e ci resta da vedere l'ultima parte di questo capitolo che riguarda la educazione sessuale che è certamente molto delicata e che va praticata scrive il papa sempre come educazione all'amore all'amore inteso come donazione di sé all'altro il processo educativo in questo delicato campo della sessualità e della affettività va portato avanti con fornendo ai ragazzi informazioni adeguate e proporzionate alla loro età in modo particolare il papa dice che bisogna porre una particolare attenzione ai pericoli della pornografia e al sovraccarico di stimoli erotici che sono presenti nella nostra società e che non favoriscono una corretta una adeguata conoscenza e valorizzazione di quel meraviglioso dono di dio che è la sessualità in questo senso risulta sempre necessario secondo papa francesco educare a un sano pudore il pudore è considerato non come un nemico della sessualità ma come una difesa naturale della interiorità della persona una persona che è sempre soggetto e non può mai diventare oggetto questo direi che è una definizione molto bella di pudore al numero 283 francesco ammonisce con forza è irresponsabile ogni invito agli adolescenti a giocare con i propri corpi con i propri desideri come se avessero scrive la maturità i valori l'impegno gli obiettivi che sono propri del matrimonio mi sembra che più chiaro di così il santo padre non poteva esprimere questo concetto gli adolescenti purtroppo giocano con i propri corpi qualche volta anche con i propri sentimenti giocano con una materia per così dire una dimensione forse meglio dire così importante e delicata della loro personalità che è l'affettività sessuale e finiscono poi con il farsi del male o il far del male all'altro per questo motivo dice francesco la attrazione e i desideri vanno educati perché quando si pretende di donare tutto in un colpo è possibile che non si doni nulla anche questo è di una chiarezza molto molto espressiva quando si pretende di donare tutto in un colpo è probabile che in realtà non si stia donando nulla in questo senso francesco chiarisce una cosa è comprendere le fragilità dell'età o le sue confusioni e un'altra cosa è invece incoraggiare gli adolescenti a prolungare la immaturità del loro modo di amare è chiaro che l'adolescente è ancora non maturo cioè è in fase di crescita è in fase di conoscenza della propria personalità del proprio corpo dei propri desideri delle proprie fragilità pretendere di vivere l'esperienza sessuale in un quadro di immaturità può far correre il rischio di un prolungamento in debito dell'età adolescenziale anche in quella che poi sarà l'età adulta in altri termini il rischio concreto è che molti adulti anche sposati siano rimasti immaturi sul piano proprio della loro espressione affettivo sessuale e naturalmente l'educazione sessuale deve anche comprendere il rispetto e la stima della differenza complementare tra il sesso maschile e quello femminile imparare ad apprezzare il proprio corpo nella sua femminilità o mascolinità è necessario poi per poter riconoscere se stessi nell'incontro complementare con l'altro diverso da sé naturalmente francesco dice questo è un processo lungo un processo complesso e non si può ignorare che nella configurazione del proprio modo di essere femminile o maschile non confluiscono soltanto fattori biologici o genetici ma anche molteplici elementi relativi al temperamento alla storia familiare alla cultura alle esperienze vissute alla formazione ricevuta alle influenze di amici familiari persone ammirate ad altre circostanze concrete che esigono uno sforzo di comprensione questo numero 286 io lo trovo particolarmente ricco e anche ancora una volta dotato di una di un sano realismo di cui papa francesco mostra di fare abbondante uso in tutto il documento che stiamo studiando cioè nella costruzione della propria identità sessuale maschile o femminile che sia non confluiscono soltanto fattori genetici o biologici ma confluiscono tante altre dimensioni che il papa come dire abbondantemente elenca cioè la costruzione della propria identità sessuale inevitabilmente risente anche dei condizionamenti psicologici sociologici quindi ambientali culturali e quant'altro infine il santo padre mette in luce il ruolo della famiglia nella educazione alla fede ecco questo settimo capitolo che tratta dell'educazione dei figli non può trascurare questa ultima importantissima dimensione educativa che è l'educazione alla fede la fede è un dono di dio ricevuto nel battesimo ma poi questo dono va fatto maturare attraverso la catechesi familiare attraverso l'esempio dei genitori mediante la costante preghiera per la conversione dei propri figli mediante lo sforzo di diventare sempre più una piccola chiesa domestica in cui la famiglia si impegna in modo primario fondamentale nel campo dell'evangelizzazione delle opere di misericordia della carità e quindi nella educazione alla fede di tutti i propri componenti questo settimo capitolo perciò trova in questa ultima osservazione una sua particolarissima ricchezza come vedete il capitolo settimo è anch'esso una componente fondamentale della amoris letizia l'educazione dei figli il papa ha trattato si può dire tutte le varie dimensioni dell'educazione facendo confluire poi le sue riflessioni in questi ultimi due ambiti che sono quello dell'educazione sessuale e quello dell'educazione alla fede io mi fermerei qui perché mi sembra utile che l'ottavo capitolo noi lo possiamo cominciare a vedere nella successiva nostra trasmissione in quanto il capitolo ottavo ve lo preannuncio è certamente importantissimo nella economia generale della amoris letizia il capitolo ottavo è stato quello più in qualche modo indicato dai mass media era quello più atteso perché capitolo ottavo riguarda la l'accompagnamento il discernimento delle varie situazioni di fragilità così come il papa le definisce cioè in altri termini il capitolo ottavo riguarda le situazioni dei divorziati divorziati risposati cioè di tutti coloro i quali vivono una situazione particolarmente complessa e che interpellano la chiesa quindi vedremo come il papa affronta queste situazioni in questo ottavo capitolo lo vedremo però appunto nella prossima puntata intanto vi do il mio arrivederci il mio a risentirci